... passiamo alla serie numero sedici chissano la partenza in corsia uno ottava da Rovati c'è Stisport, due Deglia Rossini Gabbiano, corsia tre Maria Solle Lenzi, Gabbiano alla quattro Noemi Favale Nuotomira, corsia cinque Deato Pezzoli, Padova Nuoto alla sei Sara Veloce G-Sport Nuoto, corsia sette Giorgia Piacentini, Acquapolis alla otto e Magreggio Tim Lugano ... I'm sexy and I know it I'm sexy and I know it ... 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